Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Ahmed Sliman, sono ingegnere e dottore in scienze agronomiche specializzato in produzione animale e qualità delle carni rosse. Attualmente sono capo servizio per la promozione della qualità delle carni rosse in seno al Givlé. Permettetemi di ringraziare i organizzatori di questo workshop di lancio del progetto GESMED. Auguro anche il benvenuto a tutti i partecipanti a questo workshop. Adesso il ruolo del Givlé in quanto partner associato all'Associazione per lo sviluppo agricolo degli lavoratori delle pecore del nord nell'ambito del progetto GESMED. Presenterò innanzitutto il Givlé, associazione interprofessionale delle carni rosse del latte. Cercherò di illustrare le principali attività del Givlé e dunque presenterò il ruolo del Givlé in qualità di partner associato nell'ambito del progetto GESMED. L'associazione interprofessionale delle carni rosse e del latte è il risultato di una fusione avvenuta nel 2004 tra il Givlé e il Givr. Il Givlé costituisce una persona giuridica di interesse economico pubblico dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria sotto la tutela del Ministero dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca. Il Givlé è guidato da un consiglio di amministrazione che rappresenta i rappresentanti dell'UTAP e vi sono due membri che rappresentano i produttori delle carni rosse e due membri che rappresentano i produttori del latte. Raggruppa anche i rappresentanti dell'UTK, vi sono due membri che rappresentano gli industriali dell'atte e gli altri due membri che rappresentano gli industriali delle carni rosse. Il governo è rappresentato da quattro membri, cioè il Ministero delle Finanze, il Ministero del Commercio, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Agricoltura. I principali compiti del Givlé sono essenzialmente innanzitutto l'organizzazione delle filiere attraverso la semplificazione della concertazione tra i diversi professionisti, l'attuazione delle basi per l'organizzazione delle professioni interessate nell'ambito delle filiere e lo sviluppo delle piccole filiere nei due settori, nel settore del latte e in quello delle carni rosse. Il secondo compito riguarda la promozione della qualità. Il Givlé partecipa all'attuazione della normativa per quanto riguarda il latte e i suoi derivati e al sistema di classificazione dei prodotti a base di carne. Il Givlé assicura anche l'inventario dei prodotti di qualità e la promozione dei prodotti biologici. Il Givlé partecipa anche all'elaborazione degli standard di qualità in collaborazione con altre strutture interessate. La regolamentazione del mercato viene assicurata essenzialmente dalla creazione di un sistema di controllo e di monitoraggio dei mercati. collaboriamo con delle strutture interessate e dei professionisti per la costituzione delle scorte di sicurezza e assicuriamo anche un ruolo consultivo per quanto riguarda i programmi di importazione ed esportazione dei prodotti. Per quanto riguarda il sistema di informazione analizziamo e condividiamo le informazioni con i diversi operatori delle due filiere realizziamo anche dei studi di previsione, dei studi settoriali riguardanti le due filiere latte e carne rossa e partecipiamo anche all'elaborazione delle banche dati per i prodotti latte, carne rossa e mangini. Per quanto riguarda il ruolo del Givlé in qualità di partner associato all'associazione di sviluppo agricolo degli elevatori della pecora del nord nel progetto JustMed il Givlé partecipa al gruppo de Tash 3 per quanto riguarda la realizzazione, lo studio dei sistemi di produzione dei ovini di razza Noir de Tivar in collaborazione con gli altri partner partecipiamo anche alla caratterizzazione degli allevamenti secondo la dimensione delle greggi, il regime alimentare, le prestazioni zootecniche e la redditività degli allevamenti sempre in collaborazione con gli altri partner partecipiamo anche al gruppo de Tash 4 riguardante lo sviluppo e il controllo della qualità il Givlé partecipa nell'ambito di questo gruppo de Tash alla formazione dei operatori nel settore della macellazione e del sezionamento contribuiremo all'elaborazione di una guida delle buone prassi in materia di igiene, di trasporto e di macellazione in collaborazione con l'INAT e la DGPA contribuiremo all'attuazione di un sistema di tracciabilità della carne noir de Tivar supporteremo anche l'associazione di sviluppo agricolo degli allevatori della pecora del nord in qualità di partner associato per l'installazione di un macello mobile per i uvini il Givlé partecipa anche al gruppo de Tash 5 riguardante l'attribuzione di un marchio alla carne daniello della razza noir de Tivar contribuiremo all'organizzazione delle sessioni di formazione degli operatori della filiera interessati nell'iter di certificazione parteciperemo anche all'elaborazione dei disciplinari per quanto riguarda la carne daniello noir de Tivar l'associazione contribuirà anche alla creazione di una società mutuale di servizi agricoli che raggruppa le diverse parti interessate nell'ambito dei principali anelli della filiera ovina noir de Tivar e contribuirà anche all'identificazione del quadro istituzionale giuridico per la creazione di questa SMSA dunque per concludere e per riassumere il Givlé parteciperà ai gruppo de Tash esposti prima in collaborazione con gli altri partner e in qualità di partner associato all'associazione di sviluppo agricolo degli elevatori della pecora del nord parteciperà all'attuazione di questo iter di attribuzione di un marchio di certificazione della carne della razza noir de Tivar e al successo di questo progetto vi ringrazio della vostra attenzione la mia presentazione si conclude qui grazie a tutti grazie a tutti